Tra i modi per celebrare Dante Lighieri nel setticentesimo anno dalla sua scomparsa c'è anche un sito apposito, uno strumento che, comodi da casa, con computer o smartphone, permette di viaggiare nei luoghi del somo poeta e addentrarsi in quelli della regione toscana che Dante ha inserito nella Divina Commedia. Con il portale Dante Otosco noi abbiamo raccolto tutte le iniziative che enti locali, associazioni culturali, ambiti territoriali fanno su Dante. Stiamo parlando di oltre 150 grandi eventi, alcuni in italiani, altri addirittura in inglese. Sono state organizzate una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio sotto forma di eventi anche virtuali tramite l'uso della tecnologia. Oltre che le tradizionali visite di persona, anche il formato digitale ha riscosso un grande successo. Visualizzati da oltre 60.000 utenti con una permanenza media sul sito di oltre 1 minuto e 48, quasi 2 minuti di tempo. Quindi c'è grandissima attenzione a livello nazionale e internazionale. Quindi l'attenzione c'è per la Toscana e in particolare per la Toscana diffusa e Dante, come sappiamo tutti, è diffuso in tutta la Toscana.